Buon pomeriggio e bentrovati al nostro consueto appuntamento di 22esimo piano, ma oggi ci troviamo in una sorta di 22esimo piano però, diciamo, atavico. Siamo dal, trasmetteremo dal Castello Svevo di Cosenza, recentemente restaurato e messo a disposizione del pubblico. Siamo qui perché da due giorni stiamo seguendo un evento molto importante, il meeting della Polizia Locale con il suo marchio, che noi già seguiamo dall'anno scorso, questo quest'anno è Pol 2016, questo meeting organizzato dalla Beta Professional, che è il promoter, ogni anno parla di tematiche legate a questa grande realtà della Polizia, appunto la Polizia Locale, che si incontra qui per dibattere tutte le problematiche inerenti a questo corpo. Vi do solo una notizia che molti non sanno, la Polizia Locale è il primo corpo di Polizia d'Italia numericamente, sono circa 60 mila gli agenti della Polizia Locale e quest'anno il tema di fondo che ha accompagnato il meeting è stata la sicurezza urbana legata al terrorismo internazionale. Ed è un tema estremamente innovativo. Noi giornalisti diremmo sul pezzo, perché sul pezzo? Perché quello che è avvenuto in Europa con gli attacchi terroristici, a partire da Parigi, Bruxelles, ma già era avvenuto a Londra, ha modificato in qualche modo il vivere sociale, il comune sentire della cittadinanza. Quindi si è aperto un enorme dibattito intorno al tema della paura e si è aperto anche un enorme dibattito di fronte al tema dell'organizzazione. La prevenzione militare, i corpi di Polizia, in Italia per fortuna non siamo stati oggetto allo stato di attacchi che hanno prodotto atti di sangue, però il livello di attenzione è alto e l'inquietudine ha raggiunto anche noi. Intorno a questi temi il meeting Pol 2016 ha voluto costruire tutte le altre problematiche della Polizia Locale. Perché? Perché nell'assetto organizzativo della prevenzione, della sicurezza urbana, la Polizia Locale potrebbe e deve, e in certi casi svolge, un ruolo fondamentale. L'esperienza di Parigi ma di altre parti dimostrano che a parte la complessità della dinamica che produce questa vicenda del terrorismo, poi ci ha lasciato un contributo, una personalità importante che ha aperto i lavori insieme al professor Caleggiuri la prima giornata in cui si è parlato appunto di sicurezza legata al terrorismo, che è il dottor Gian Groia che è un funzionario del Dipartimento della Polizia di Stato, ma è anche il direttore di un comitato scientifico che si occupa di studiare il fenomeno del terrorismo proprio lì, in quei paesi dove la dinamica anche geopolitica, gli interessi futuri, le dinamiche economiche, gli obiettivi del controllo di quello che ancora è il più grande giacimento energetico del globo è legato, è legato, tutta una serie di vicissitudini legato a quello che è cosiddetto, tra virgolette, terrorismo islamico, produce spesso nel popolo una dinamica legata ai migranti, legata a tutta la vicenda che riguarda l'occoglienza, però poi in realtà poi avremo un'intervista esclusiva del dottore che avrebbe dovuto partecipare, ma purtroppo ha dovuto partire prima, ma ci ha lasciato veramente un contributo fondamentale. Prima di andare a vedere il primo contributo, che in qualche modo la scheda che riassuma quanto sta avvenendo in Europa e quanto è già avvenuto, io partirei con il presentare i nostri ospiti, poi si alterneranno perché vogliamo parlare anche di tutte le tematiche, oltre a quello della sicurezza legate alla polizia locale. E inizierei, diciamo, non per fare torto, ma inizieremo con gli ospiti, perché questo è un meeting nazionale e di conseguenza ci sono esperienze, funzioni che vengono da ogni parte d'Italia. C'è un viso estremamente meridionale, io lo vorrei presentare, è il vice comandante della polizia locale di Druento, in provincia di Torino, che insomma con lui discuteremo di tutta la problematica e poi chiederemo anche qualche testimonianza, insomma perché poi questo corpo grande, abbiamo visto più grande d'Italia, però insomma ha anche diversificato sul territorio, le problematiche sono diverse. Poi, questa volta, proprio perché siamo in diretta abbiamo voluto anche una par condizio sulle quote, perché abbiamo intervistato in questi giorni, siamo molti maschietti, ma nella polizia locale è in posizione anche, diciamo, direi di intelligenza e lavorano delle donne. Ho qui accanto a me, darei a lei il microfono per fare in modo che si presenti, che è la dottoressa, prego. Paola Rosellini, che si occupa. Dal comune di Cascina mi occupo anch'io di semplificazione amministrativa e di progetti che si incardinano sulla semplificazione amministrativa, quindi sui progetti di avvicinamento del cittadino alle istituzioni. È fondamentale proprio sul tema che stiamo dibattendo in questi giorni e quindi sulle politiche di sicurezza urbana, si incentrano alcuni progetti che stiamo portando avanti, proprio con il coinvolgimento del cittadino. Un progetto molto importante dalla Toscana, sul cui stiamo lavorando, ma anche di altre regioni, è il progetto del controllo di vicinato. E poi ci ritorneremo, insomma. Grazie. Perché, insomma, approfondiremo poi queste tematiche. E invece lì c'è un'altra dolce signora, ma dolce fino a un certo punto, perché è un ruolo che inquieta l'opinione pubblica. Prego. Allora, io non faccio... Dato il nome. Dottoressa Giulia Lacasella, comune di Santeramo in Colle, provincia di Bari, e sono il direttore di ragioneria. Eh, perfetto. E lì poi vedremo quali sono le tematiche. Poi, insomma, come vedete, stiamo rappresentando lo stivale. E poi andiamo giù, andiamo... Alfredo Priolo, sono un segretario comunale, già comandante della Polizia Municipale di Reggio Calabria per dieci anni, quindi, come dire, un po' ha detto ai lavori, lo sono stato, e col cuore sono rimasto. Di questo fatto. Avete visto gli accenti che, insomma, da Torino siamo passati per la Toscana per arrivare in Puglia. E poi, adesso pregherei, a fianco a me, quasi da conduttore, l'anima di questo meeting, Pol 2016, ma anche quello 2015, e tutti gli altri. E Ottavio Chiappetta, che è, insomma, con la sua beta professional, però, insomma, è lui il motore di questo evento, che in qualche modo, come diversi relatori hanno detto nelle tavole rotonde che si sono susseguiti, insomma, io e Ottavio ci diamo del tuo, anche perché, insomma, ormai parliamo da qualche tempo di queste tematiche, insomma, collaboriamo con lui. E poi, insomma, in molti sono quelli che ormai, proprio gli operatori della Polizia Stai svolgendo una funzione supplente, perché, insomma, una delle tematiche che pongono gli agenti della Polizia Locale, soprattutto alle nostre latitudini, è la mancanza di punti, di luoghi, di scuole, di formazione, di aggiornamento, che in una società complessa come questa, insomma, mi pare che dovrebbero essere la prima cosa per attrezzare, oltre a tutte le altre di cui poi parleremo, quando andremo a fare la prima parte sulla sicurezza. Allora, Ottavio, il bilancio di quest'anno, innanzitutto. Allora, intanto, grazie a voi che siete sempre qui con noi, pronti a sostenerci in tutte le nostre manifestazioni relative proprio alla Polizia Locale. Intanto volevo sottolineare una cosa. Già quando si parla di supplire, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Supplire non è semplice. Il bilancio quest'anno è stato sempre positivo, ma quest'anno lo è ancora di più. Abbiamo raddoppiato gli iscritti, abbiamo avuto più di 500 presenze, gli espositori sono contenti, non c'è stato un visitatore o un relatore che non ci abbia fatto i complimenti. Addirittura ti posso dire che sono orgogliosissimo perché i relatori sono tutti di fama nazionale, quindi vedono convegni in regioni di altra natura, insomma città più grosse, ma mi dicono alcuni che non hanno mai avuto la possibilità di fare relazioni in una simile realtà. Questo inorgoglisce me ma inorgoglisce anche loro perché io sono il motore ma soltanto sono spinto perché avverto l'esigenza di una categoria di fare queste cose. Ovviamente siccome le sfide a noi non dispiacciono, le accogliamo e le portiamo avanti. Quest'anno abbiamo scelto, questo è importante, perché poi questi eventi servono per la formazione, servono per gli aggiornamenti, servono per riflettere sulle problematiche del settore, ma servono anche a promuovere visto che è un incontro nazionale. Quest'anno avete scelto questa bellissima location, il Castello Svevo. Sì, oltre alla formazione un altro dei motivi, dei presupposti di Polle è quello di promuovere il territorio e i territori. Polle dopo i primi tre anni probabilmente l'anno prossimo cambierà proprio l'uovo, non sarà più Cosenza ad ospitarlo, perché vogliamo promuovere altre realtà, perché vogliamo far vedere le bellezze della nostra regione e perché vogliamo rendere sempre più fruibile questo evento. Lasciarlo sempre nello stesso punto secondo noi non sarebbe una cosa giusta. Devo sottolineare una cosa, come quest'anno la Dea Bendata ci abbia voluto bene, cioè il primo anno dove non piove a Polle, e qui se poco poco avesse piovuto l'evento sarebbe stato un flop. Quindi va detto che è una congiuntura... Una congiuntura favorevole. Perfetta, cioè si è verificato un qualcosa che secondo me raramente si potrà verificare nelle stesse condizioni. Quindi Polle al Castello difficilmente lo rivedremo in tutto il suo percorso. Insomma siamo in un clima veramente estivo, fa caldo, sicuramente il vicecomandante della Polizia di questo caldo lo avverte più di noi. Sì, direi di sì, visto che al nord in questi giorni sta piovendo abbondantemente, quindi qui stiamo veramente bene. Perfetto, allora noi dobbiamo proseguire con questa dimensione perché poi questo evento e questo tema ha molto attratto i nostri telespettatori, perché questo tema della sicurezza e del terrorismo ormai è un problema che ognuno si sente sotto casa. Noi qui in Calabria abbiamo un'emergenza che è quella che ogni giorno ci misuriamo con centinaia e centinaia di migranti che sbarcano nel porto di Reggio, quello di Vibbo, di Corigliano. Insomma c'è una mobilitazione degli enti locali, delle organizzazioni sociali, un po' come a Lampedusa. La Calabria è un'altra terra di frontiera e intorno a questo poi come sempre si innesca tutto il dibattito strumentale alla politica è estremamente dannosissimo tra chi ritiene che bisogna erigire muri, che bisogna bloccare. Insomma le questioni invece diremmo che sono molto più complesse. E spesso su quelle banchine che noi come giornalisti seguiamo ogni giorno all'alba o nella notte inoltrata quando le navi militari portano, abbiamo modo insieme agli operatori umanitari di guardare quei volti, di vedere quei bambini, di vedere anche qualche cadavere che scende, che viene trasportato da quella nave. Non la pensiamo e non semplifichiamo l'argomento perché vediamo veramente un grande esodo, esodo di massa, di gente che scappa, sfugge, cerca di trovare riparo soprattutto per salvare la vita. Per fare questo è così forte il disagio che vivono sulle loro aree di guerra che insomma sono pronti a morire, a morire nella traversata, a farsi ammazzare spesso dai trafficanti umani. Quindi vedete com'è complesso. Su quelle banchine insieme a noi ci sono tanti vigili urbani, molti. Nella città di Reggio Calabria, l'adesso segretario comunale, ma già comandante, c'è stato anche un operatore, un comandante mi pare, il comandante della Polizia Municipale che sotto stress ha lasciato la vita proprio in uno degli sbarchi più drammatici, in uno dei momenti di più forte emergenza. E allora questo fenomeno è complesso ed è proprio appropriato qui nella sede del meeting perché questa è la polizia di prossimità. Voi siete la polizia di prossimità. Voi siete coloro che anche rispetto alle altre forze di polizia, come diceva il comandante di Rende in una tavola rotonda, siete i primi che potete avere quella percezione che qualcosa sta accadendo. Perché siete quelli che poi fate i sopralluoghi per gli alloggi che devono essere dati a questi migranti. Siete quelli che cogliete il disagio che spesso, come è avvenuto a Parigi, si nasconde nella terza e quarta generazione di emigranti che sono cittadini francesi ma che vivono nelle scampie, perché la scampia non è solo a Napoli, scampia c'è a Parigi, scampia c'è a Barlino, ci sono aree periferiche, quelle periferie tanto care anche a Papa Francesco che spesso sono lasciate non attenzionate dalla società occidentale. I vigili, la gente di polizia locale ci sono e quindi questo patrimonio deve essere utilizzato, ma questo patrimonio deve avere le tutele degli altri poliziotti. Noi la semplifichiamo perché siamo in diretta, la gente ci sta ascoltando, io la volgarizzo in maniera pesante ma serve anche a dare il senso di questo tema. Diceva un agente di polizia locale, se io faccio un'operazione con un agente di polizia normale, se ci sparano a tutte e due lui viene indennizzato ed io no, perché io ho un contratto e una tutela da semplice operatore amministrativo. Vedete quanto i problemi poi interessano la gente comune, i vigili urbani e gli agenti di polizia locale non sono un corpo estraneo, le problematiche che si discutono qui, anche sul piano tecnico alcune volte, ma sono estremamente vicini alla cittadinanza. Ma cerchiamo di capire attraverso questa scheda che cosa sta avvenendo in Europa. Si è tolto la vita impiccandosi in carcere Jabber al-Bakr, il 22enne siriano accusato di voler compiere un attentato terroristico a Berlino, era stato arrestato due giorni prima in seguito alla denuncia di due connazionali e l'ennesima vittima in ordine di tempo del terrorismo del sedicente califato nero, vittima di una dottrina che travisa se stessa, di un'estremizzazione arbitraria che travolge il senso della più diffusa regione monoteista, l'Islam, che conta oltre un miliardo e mezzo di fedeli in tutto il mondo, 44 milioni risiedono in Europa, ma fino a qualche anno fa il terrorismo era un problema degli Stati Uniti. Dopo il massacro delle Torri Gemelle nel 2001, la consapevolezza si è lentamente fatta strada anche nelle coscienze dei leader e dei cittadini europei, ma nessuno aveva realizzato quanto potesse essere buio il volto del terrorismo fino agli attentati che hanno arroventato il cuore dell'Europa. Il primo, il 7 gennaio 2015, colpisce la sede della rivista satirica Charlie Hebdo nel centro di Parigi. Un commando di uomini armati di AK-47 fa eruzione nello stabile. Le immagini della fredda esecuzione di dodici tra redattori e vignettisti fanno il giro del mondo. Chi cerca di scappare, viene ucciso per strada. Tra i morti anche un operaio e un agente di polizia. L'attentato è stato rivendicato dalla branca iemenita di Al-Qaeda. Parigi, 13 novembre 2015. Alle 21.20 un'esplosione irrompe nella notte della Ville Lumière. È solo l'inizio. Negli attacchi rimarranno uccise 130 persone. Le irruzioni armate causeranno 352 ferite, fra di essi un poliziotto raggiunto da un proiettile vagante. 80 feriti vengono portati in ospedale in gravi condizioni. I numeri di due giorni di attentate in diverse parti della città sono impressionanti. 93 persone perdono la vita nell'assalto al teatro Bataclan, 13 nel locale a Le Carillon e l'Epetit Cambodge, 3 al caffè Bombiere alla Casa Nostra, 20 alla Belle Epoque e 1 allo Stade de France. Tra le vittime anche 26 stranieri. Poche ore dopo l'attacco al Bataclan si apprende della morte di una ragazza italiana, Valeria Solesin. La svolgendo un dottorato in demografia all'università. Per la serie di attacchi verrà fermato, dopo una caccia all'uomo durata 4 mesi, ferito e arrestato dalla polizia belga, il terrorista 27enne Salah Abdeslam. Si nascondeva a Bruxelles, nel quartiere Moellenbeck. La polizia lo indica come uno degli organizzatori degli attacchi di Parigi, ma l'incubo continua a Niz. Nel cuore dell'estate, il 14 luglio 2016, intorno alle 22.30, durante uno spettacolo pirotecnico, la folla raccolta sulla Promenade des Anglais viene falciata da un autocarro, un renommi di un 300 lanciato a folle velocità. La polizia tenta di fermare il mezzo, ma riesce solo a rallentarne la corsa. In un percorso di un chilometro e mezzo, durante il quale il conducente sparava dal finestrino, vengono travolte centinaia di persone. Alla fine il bilancio sarà dei 39 morti e 250 feriti. Il responsabile verrà identificato in un uomo di 31 anni, residente a Nizia, con doppia nazionalità francese e tunisina. Il 16 luglio l'ISIS ha rivendicato l'attentato. Il 22 marzo del 2016, quattro giorni dopo l'arresto di Salah Abdeslam, unico sopravvissuto degli autori degli attentati di Parigi del 13 novembre, l'ISIS colpì Bruxelles con un duplice attentato. Due uomini si fecero esplodere all'aeroporto di Zaventem, un altro nella stazione della metropolitana di Malbec, a poche centinaia di metri dalle sedi dell'Unione Europea. Nell'attentato hanno perso la vita 35 persone. Abbiamo fatto questa scheda della collega, ho voluto proporre questa scheda della collega colloca che ci ha detto cosa sta avvenendo, cosa è avvenuto soprattutto nelle aree urbane e metropolitane d'Europa, che non sono diverse dalle nostre, noi per fortuna per una serie di congiunture diremmo così non c'è stato l'interesse ad essere colpiti. Io comincerei con la dottoressa Rossellini, anche perché la dottoressa Rossellini conosce bene la pubblica amministrazione, lei ha collaborato anche con Bassanini che ha fatto la prima riforma della pubblica amministrazione. Allora dottoressa, qua emerge un tema, cioè la stessa Polizia di Stato, il Ministero degli Intenti, ritiene che ormai la forza della Polizia Locale è determinante in questo mosaico di equilibri dello Stato per la lotta al terrorismo. Lo dice l'intelligence, insomma da lì perché l'intelligence oggi è fatta da informazione e questo patrimonio è straordinario. Che cosa secondo lei, insomma, dalla sua esperienza, cosa blocca a cambiare le tutela di questa categoria che tutti ormai ritengono così importante? Direi che oggi proprio è arrivato il momento che non si può più aspettare, vanno cambiate perché la Polizia Locale è veramente la forza di Polizia più vicina al cittadino ed è quello a cui il cittadino si rivolge e con il quale si confida, quella che ispira più fiducia, il vigile di prossimità ma tutta la Polizia Locale è vicina al cittadino. Purtroppo non vi sono gli strumenti. Già la riforma della Polizia Locale è partita da diversi anni, proprio anche con il Ministro Franco Bassanini con il quale io ho collaborato diversi anni e anche con il Dipartimento con altri Ministri che si sono succeduti, partendo proprio da quelle che sono le parole chiave della semplificazione e sussidiarità. Cosa vuol dire? Che è l'ente locale più vicino al cittadino che deve preoccuparsi di risolvere i problemi e i bisogni del cittadino. Oggi anche al terrorismo ma anche per altre dinamiche sono aumentati moltissimi furti nelle cittadine di medie dimensioni ma anche in quelle più piccole che sembravano roccaforti dove il senso e il malessere dell'insicurezza non si avvertiva. In realtà anche nei piccoli comuni oggi si avverte proprio questo bisogno di sicurezza. Quindi i progetti che stiamo portando avanti sono progetti dove il cittadino non deve essere lasciato da solo e molto spesso dove facciamo questi progetti viene lasciato proprio alla buona volontà della gente, dell'ufficiale di Polizia Locale di collaborare, di cercare forme con il cittadino per sopperire a questo bisogno, a questa mancanza di sicurezza che comunque sia lo Stato con le altre forze di Polizia non riescano a integrare. Con la riforma Madie si è cercato di fare un passo avanti tramite l'integrazione della forestale con l'arma dei carabinieri ma bisogna fare di più, cioè bisogna proprio focalizzarsi sulla Polizia Locale, dare le risorse sia umane sia strumentali e anche le risorse economiche per migliorarsi professionalmente per dare quegli strumenti per combattere questo senso di insicurezza e al di là del terrorismo anche tutti i furti, i reati minori che comunque sia vengono avvertiti perché uno in casa sua non si sente più a casa propria e quindi si sente continuamente vulnerabile perché sono aumentati notevolmente i dati statistici che ci vengono forniti in tutte le città d'Italia, dal nord al sud nessuno si sente più sicuro in casa. La Polizia Locale è fondamentale, non si può più rimandare, c'è questa necessità che non soltanto di una riforma a livello nazionale ma anche di una riforma a livello regionale di aiutare proprio la Polizia Locale a salire di un livello e di dare gli strumenti idoni per combattere appunto questo senso di insicurezza che è sempre più diffuso e più passa il tempo ahimè e più le dinamiche diventano ancora più complesse e più si avverte questo bisogno. Poi tornerò a lei perché lei si occupa di un settore legato al commercio e poi qui siamo in Calabria e si innescono tante cose. Intanto ci ha raggiunto un'altra affascinante signora, anche lei diciamo esperta soprattutto in materia ambientale, insomma è una delle problematiche per esempio che accompagnano questa regione in maniera drammatica per certi aspetti, abbiamo il problema del mare, il problema del controllo degli scarichi, il problema dei depuratori che non funzionano e tutto il resto. Intanto si chiama Rosa Bertuzzi, avvocato, esperta in materia ambientale, ha visto anche lei il nostro intro e qui le chiedo insomma anche un po' non solo come esperta come diciamo questa tematica e come viene percepita. Lei viene innanzitutto da dove? Da Piacenza, arrivo da Piacenza e nasco dalla polizia locale anch'io, poi ho creato una società dove facciamo consulenza ambientale, siamo diversi avvocati perché con gli anni l'ambiente diventa sempre più un'esigenza del cittadino, sempre più denunce, sempre più tutela del territorio e quindi le nostre difese sono, anche se siamo di Piacenza, improntate soprattutto alla campagna, alle bonifiche e ai disagi ambientali. C'è stato un aumento di forme tumorali in campagna altissimo. Là c'è il problema della terra dei fuochi per esempio. Terra dei fuochi, c'è anche il triangolo della morte dove una forma tumorale negli ultimi due anni è aumentata del 450% e quindi adesso c'è proprio questa esigenza di intervenire nel suolo e nel sottosuolo per tutelare l'ambiente campano. Per quanto riguarda la Calabria, oggi sono venuta qua, ho avuto esperienze in passato in Calabria, sono stata qualche anno a lavorare a Catanzaro, sono stata diverse volte a Cosenza a fare anche formazione, a fare consulenza in comuni nel territorio della provincia di Cosenza e in Cosenza stessa per tutelare l'ambiente. Qui siete molto attenti alla tutela dell'ambiente, voi perché avete il territorio montano della Sila, voi perché avete il territorio marino e siete in particolar modo attenti a tutelare al meglio l'ambiente. Bene, io vorrei arrivare al dottor Priolo, innanzitutto perché lì è a Reggio, abbiamo citato questa questione degli migranti, poi vedete come è la tematica sulla sicurezza, da quello che diceva la dottoressa rispetto alle tutele, quindi quello che sta avvenendo, l'evoluzione nella riforma, lenta però insomma in questi anni sta andando avanti e vedete la sicurezza come il fenomeno della sicurezza si allarga, perché da quei fenomeni che riguardano il terrorismo, gli migranti, la possibilità di controllare la prevenzione, poi arriviamo all'ambiente dove lì si innescono interessi. Il dottor Priolo, oltre a essere oggi segretario comunale, ci darà anche la sua esperienza su questa questione delle tutele o meno, vive una città di frontiera come Reggio e nello stesso tempo però ci può spiegare anche quante tematiche, in una città difficile come Reggio può svolgere la polizia locale, anche in termini di prevenzione, per esempio, dei reati tipicamente legati all'andrangheta, cioè individuare patrimoni legittimi, per esempio. Poi io con la dottoressa affronterò il tema dell'evasione fiscale, che è un altro dei temi che caratterizza la problematica della nostra stagione sociale nel nostro Paese. Prego dottor. Sì, io brevemente racconto due esperienze diverse. Tema migranti. Mi piace ricordare come la protezione civile prima, ma con il supporto delle polizie locali, nel caso specifico la polizia locale di Reggio Calabria, naturalmente le altre forze di polizia dello Stato, sono in prima linea con il fenomeno degli sbarchi. E con esse c'è tutto il mondo del volontariato, dell'associazionismo, degli enti no profit, che dà un grande contributo. Peraltro, collegato a questo, ci sono quei fenomeni che il Ministero dell'Interno sta provando a gestire, cioè la prima accoglienza, quindi questi centri di prima accoglienza, in cui si provano un po' a, passatemi il termine, schedare e differenziare i migranti, con le esperienze invece molto più interessanti e che trovo, naturalmente, a mio parere personale molto, ma molto valide, l'esperienza della seconda accoglienza, cioè i progetti SPRAR, che si stanno diffondendo sul territorio regionale, in cui soprattutto i comuni di medie e piccole dimensioni stanno provando ad integrare nel loro tessuto sociale ristretti gruppi, nuclei familiari, a cui nella prima fase offrono anche la possibilità di imparare l'italiano, di inserirsi nel contesto sociale, imparando un po' usi, tradizioni e costumi, fino ad arrivare ai tirocini formativi, per ottenere pian piano, naturalmente è un'esperienza riservata ai rifugiati politici, fino ad arrivare a piano piano ad una perfetta integrazione nel tessuto, in questo caso calabrese, ma è un'esperienza che il Ministero sta portando avanti, c'è un bando che scade proprio a fine ottobre e c'è un grande interesse in tutta Italia a replicare questo tipo di esperienze che ormai da qualche anno sono partite. L'altro tema invece è quello dell'impegno della polizia locale nel fenomeno, nella lotta, nel contrasto all'andrangheta. Io già da qualche anno ho trattato del tema, non si riesce naturalmente a contrastare l'andrangheta nei suoi fenomeni più violenti e nei suoi fenomeni anche di inserimento dentro i tessuti economici, sociali, politici del territorio. Si può combattere invece molto efficacemente la mentalità andranghetista, cioè la cultura dell'andrangheta che si diffonde nel territorio e si può fare partendo da due approcci a mio parere. Un approccio di tipo preventivo, qui si va a lavorare nelle scuole con i ragazzi, nelle altre agenzie che prestano attenzione ai ragazzi dove fanno sport, dove si riuniscono con gli scout. Se lì la polizia locale penetra e riesce a dialogare, piano piano mette in evidenza i valori positivi della legalità e quindi è più facile che ci sia un'inversione dei normali criteri di educazione. Magari saranno i ragazzi che forti dei valori che imparano ad educare, invertendo il ciclo ordinario, i genitori. Il secondo è l'impegno invece sul campo. Il rispetto delle regole di vita quotidiana, il rispetto della vita della convivenza civile, delle regole di convivenza civile, consente un vero e proprio passaggio, un vero e proprio salto di qualità. Se le città sono più ordinate, se le città sono più vivibili e se nella vita di ogni giorno si rispettano le regole, gli stessi fenomeni indranghetistici possono essere in qualche modo relegati solo ad alcune manifestazioni violente e già togliendo e abbattendo la cultura che l'andrangheta invece vuole diffondere sul territorio, credo che un primo contrasto, una prima forma di contrasto efficace si mette assolutamente in campo. Chiarissimo, insomma, vedete, insomma, è un po' il tema di questa dismissione che parte da un problema legato alla sicurezza, ma vedete come le problematiche legate anche al rispetto della legalità si stanno mettendo in sequenza, con una linearità che rende ancora di più l'idea, diciamo, di quello che si discute qui, insomma, di quello che non è una rivendicazione normale, è una invece esigenza sociale, si potrebbe dire, cioè questo Paese ha l'esigenza di rendere serie le proprie istituzioni. Tra l'altro, incidendo su alcuni fenomeni in modo efficace, in modo serio, ad esempio l'edilizia, quindi la tutela del territorio, l'ambiente, il commercio sulle repubbliche e in particolare la contraffazione, incidendo su alcuni fenomeni come l'occupazione di suolo, si combatte, è una forma di contrasto all'andrangheta, perché sono dei territori in cui sappiamo, chi conosce il territorio lo sa, l'andrangheta è molto, li governa alcune attività, non direttamente, ma attraverso delle famiglie magari ad essa collegate, quindi è una frontiera questa, che è quella più vicina alla strada e al cittadino, in cui assolutamente la polizia locale può esercitare un ruolo centrale, e se lo esercita bene può rivendicare anche le altre questioni che dicevamo prima, anche i diritti. Io dicevo sempre di guardarci allo specchio, se lavoriamo bene, prima lavoriamo bene, poi andiamo a interfacciarci con le altre forze di polizia, con lo Stato, e lo facciamo orgogliosamente, ma con l'orgoglio di chi fa bene il proprio lavoro. Perfetto, noi adesso ci fermiamo un attimo per uno stacco pubblicitario, poi riprendiamo da uno operativo, perché lì insomma c'è chi, poi è sulla strada e poi faremo delle domande, intanto ci dobbiamo fermare un attimo per lo stacco pubblicitario. Dr. Sport, da lunedì a venerdì, solo sulla C. Splendidi, splendenti, rivoluziona la matematica. Uno più uno uguale gratis. Uno lo paghi, l'altro è in omaggio. Fino al 16 ottobre, sgrassatore con candeggina Chanteclair, due pezzi, 2,38 euro, il secondo è omaggio. Bicchieri everyday, 100 pezzi, due confezioni, 85 centesimi, il secondo è omaggio. Uno più uno, gratis. Solo da splendidi, splendenti. Più splendidi, meno spendi. Il programma di sviluppo rurale della Regione Calabria 2014-2020 è entrato nella fase attuativa, con i bandi a tutela dell'ambiente, della biodiversità e per il presidio dei territori. Con i nuovi bandi del PSR, puntiamo alla crescita delle aziende agricole, alla competitività sui mercati, all'insediamento dei giovani in agricoltura e allo sviluppo locale. Scopri le opportunità sul sito calabriabsr.it La C-Movie, sabato e domenica, solo sulla C, canale 19 del Digitale Terrestre. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Perfetto, abbiamo voluto riaprire, venga qui vicino a me, abbiamo voluto riaprire questa parte della nostra diretta, lo ricordiamo perché si fosse messo in comunicazione, in onda, in sintonia con noi. Adesso stiamo trasmettendo in diretta dal Castello Svevo di Cosenza, siamo sul canale 19, la C, l'evento che quest'oggi 22esimo piano testimonia qui, lì è l'evento di Pol 2016, il meeting della polizia locale, stiamo discutendo di sicurezza, terrorismo, stiamo discutendo di lotta all'evasione e abbiamo voluto aprire questa seconda parte della trasmissione con una dimostrazione di come mettere fuori uso i malintenzionati. Prenda il microfono, ecco quella è la camera, voi fate formazione sostanzialmente e fate formazione anche a questi agenti di polizia locale anche perché insomma non esiste una scuola, bisogna arrangiarsene. E voi diciamo... Noi offriamo quello che è il Krav Maga nello specifico, che è la lotta militare israeliana, che è adattata per le forze dell'ordine per disarmare una persona, un malvivente a distanza ravvicinata senza l'ausilio delle armi, che si arriva... Ecco questo è importante, cioè voi formate ad intervenire per cercare, senza che si possa usare, perché insomma in una città dove ci sono gente bisogna operare non mettendo in rischio l'ingolumità delle persone. Esatto, all'arma si ci deve arrivare all'ultimo, proprio in estremis. Esatto, in estremis dobbiamo arrivare all'arma, noi riusciamo per le distanze brevi a disarmare un aggressore, come avete visto, sia da coltello che da pistola, o qualsiasi sia l'oggetto, un bastone, qualsiasi sia l'oggetto atto a ricaricare del danno agli altri. Quindi voi offrite questo servizio, insomma, anche alla Polizia Locale, insomma... Esatto, come già è stato fatto con la Polizia Locale di Cosenza. L'anno scorso abbiamo fatto un'attività di tre mesi, data agli agenti su strada, e abbiamo portato un bel risultato, sono stati partecipi tutti quanti, il comandante della Polizia di Cosenza ha voluto offrire questo servizio ai propri agenti. Bene, io vi ringrazio per la prova, perché insomma abbiamo visto chiaramente quante cose, quanta è complessa la dinamica di voi agenti della Polizia Locale che siete in... lavorate pronto in prossimità, quindi nell'erario urbano ogni giorno. Il nostro comandante, vice comandante della Polizia Locale di Druento, in provincia di Torino, sulla strada c'è ogni giorno con i suoi uomini. Ecco, rispetto alle tematiche che abbiamo affrontato, quali sono, diciamo, le difficoltà che incontrate quotidianamente? Allora, relativamente al discorso del terrorismo, io ho fatto anche formazione in materia di antiterrorismo, ed effettivamente le polizie locali sono l'organo di polizia che si trova più a diretto contatto con la realtà della strada, dove effettivamente c'è il rischio di imbattersi in eventi terroristici o comunque trasporto di armi o di munizionamenti o comunque di materiale che possa servire a realizzare degli eventi terroristici. E sicuramente la Polizia Locale che effettua i posti di controllo che sono legati sicuramente a un controllo di polizia stradale, ma che poi si allargano a un controllo più generalizzato, quindi anche di polizia giudiziaria, è l'organo di polizia che si trova più a diretto contatto con il rischio di imbattersi in rinvenimento di questo tipo di materiale o comunque di imbattersi in questi soggetti. E la formazione in questa materia è assolutamente fondamentale perché i soggetti che intervengono, ad esempio io penso agli eventi di Parigi dove c'è stato l'attentato al supermercato, chi è l'organo che interviene, il primo organo di polizia che interviene magari all'interno del supermercato, la Polizia Locale, che è l'organo che magari svolge anche servizio appiedato e quindi magari si trova a passare di lì casualmente mentre sta avvenendo un evento di questo tipo. Quindi sicuramente la formazione in questa materia è fondamentale sia da un punto di vista teorico, ma soprattutto abbiamo visto appunto come disarmare un soggetto armato di coltello o di pistola, appunto da un punto di vista pratico è assolutamente indispensabile che anche noi si sia preparati da questo punto di vista. E' vero, come diceva prima l'altra ospite, mancano le coperture normative per certi aspetti, sulle quali da un punto di vista sindacale, da un punto di vista associazionistico, si sta lavorando appunto con gli enti di governo e gli enti legislativi nazionali, perché anche noi dobbiamo essere messi in grado non solo da un punto di vista formativo, teorico e pratico, ma anche da un punto di vista di copertura e soprattutto di strumentazione e attrezzature. Ad esempio la polizia e i carabinieri sappiamo che sono attrezzati per poter contrastare questi fenomeni. Il dirigente della polizia che ha parlato, Gian Gregorio, parlava addirittura che non avete accesso, se non con una serie di scamotaggi, ai sistemi informativi del Ministero degli Interni. Abbiamo accesso alla banca dati SDI, quindi per effettuare un controllo sulla persona che fermiamo, perché dobbiamo comunque avvalerci della collaborazione e della questura piuttosto che della stazione carabinieri di riferimento. Ma anche da un punto di vista di attrezzatura e strumentazione non siamo attrezzati. La polizia locale, è vero, interviene in determinati eventi per svolgere viabilità e quindi non per svolgere ordine pubblico, ma in realtà poi ci troviamo a dover dirimere questioni di ordine pubblico perché siamo in divisa, le divise sono tutte uguali, i soggetti che partecipano a questi eventi non fanno differenza. Una divisa è una divisa, che sia della polizia dei carabinieri o della polizia locale. Quindi attacca l'organo di polizia che se ha gli strumenti e le attrezzature per difendersi riesce a farlo. Noi invece ci troviamo senza strumentazione, senza attrezzature e spesso senza preparazione. Senza le tutele, diciamo, contrattuali, ma anche senza le tutele, diciamo, delle normali risorse che bisogna avere per fronte agli armi. Assolutamente sì, perché da un punto di vista normativo noi effettuiamo servizio di viabilità. In realtà siamo sulla strada come gli altri organi di polizia e quindi... Ma se siete sulla strada, potete fermare chiunque. Assolutamente sì, ed è già capitato che i colleghi abbiano fermato veicoli dove sopra si sono trovati delle armi tipo Kalashnikov o armi del genere che potevano servire per fare degli attentati o comunque degli eventi terroristici. Insomma, il comandante ci ha entrato proprio nella carne viva del problema e che rende plasticamente drammatica, lo dico io perché voi usate termini più istituzionali, ma rende plasticamente drammatica la necessità che questo Paese adegui anche le parole, diciamo, perché poi si parla... Insomma, voi potete fermare chiunque, però insomma dovreste dire nel momento che trovate il Kalashnikov e ci va, aspetta un attimo che adesso io faccio solo, ti posso fare solo, la multa per divieto di sosta, che poi adesso chiamiamo a qualcuno che ti dovrà disarmare. In realtà non è così. Di fatto non è così, perché poi operiamo come gli altri organi di polizia da un punto di vista di polizia giudiziaria, quindi svolgiamo tutta l'attività che è necessaria per poter appunto portare a termine un'operazione di controllo che nasce magari da un controllo di polizia stradale, ma che poi si allarga in base a quello che viene rinvenuto sul momento ad altri tipi di attività. Vedete che insomma anche questo tipo di cose che stiamo facendo stiamo a fare lobbying. Dottoressa Lagasella, lei dirige un ufficio di ragioneria. Diciamo, nell'immaginario collettivo, dice? Io sono. Perché insomma arriva l'acqua, i tributi, diciamo, vari, eccetera, eccetera. In realtà questo paese, tra le tante emergenze, alcune le diceva il dottor Priolo, la lotta all'andrangheta, la sicurezza, l'abusivismo, la tutela ambientale, come diceva l'avvocato Bertuzzi, però ha un problema molto serio, perché noi nelle statistiche ogni volta che si fanno manovre finanziarie, poi diciamo siamo un paese che ha una visione fiscale. Molto alta. Voi paradossalmente siete anche la prima frontiera per guardare nell'evasione fiscale. Per certi aspetti molto più della Guardia di Finanza. Perché voi... Incrociamo i dati del catasto, utenze. Mi spiega un po' cosa può fare, la potenzialità. Di un ufficio tributi, ma non solo di un ufficio tributi. Che poi insomma lascia anche alla Polizia Locale gli accertamenti, eccetera, eccetera. Quindi è un incrocio di cose. In generale è un ufficio entrate del Comune che gestisce entrate tributarie, ma anche extra tributarie, come possono essere le sanzioni al codice della strada. E quindi lotta all'evasione significa accertamenti, ruoli, agente della riscossione, ma il mio intervento qui oggi servirà soprattutto a introdurre queste nuove regole del sistema contabile in maniera tale da poter inserire nel bilancio dell'ente locale che cosa? Quelle obbligazioni giuridicamente perfezionate ma con la loro esigibilità. Quindi che cosa significa? Un ruolo di sanzioni dal codice della strada quando poter mettere quella posta nel bilancio perché è diventata esigibile. Mentre prima che cosa succedeva con il vecchio schema? Che c'erano delle poste di bilancio, diciamo tra virgolette, anacquate, che portavano gli enti locali a spendere ciò che non avevano. Insomma è veramente... Difficoltoso. No, non difficoltoso. Diciamo il sistema che dicevo prima di una serie di dinamiche che dovrebbero essere veramente il gradino che mette in condizioni lo Stato di poter svolgere le sue funzioni. Poi ci sono quelle dell'accertamento, della grande passione. È il primo gradino. E tutto si incrocia. La polizia locale con gli uffici poi, insomma, che il dottor Priolo conosce bene, diciamo di una serie di tasselli che invece poi però è quello che emerge. Tra l'altro negli ultimi anni, la collega sicuramente conoscerà questo tipo di esperienze, nei comuni, i comuni con il ministero, con l'agenzia delle entrate hanno stipulato normalmente delle convenzioni per partecipare a quello che diceva molto bene lei, cioè all'attività neanche di accertamento, di scovare un po' gli evasori attraverso le segnalazioni qualificate, anche perché attraverso le polizie locali sul territorio e attraverso le banche dati che diputano in queste comuni, spesso si riesce incrociando i dati con quelli dell'individuare soggetti addirittura ignoti al fisco e si parte dai possedimenti immobiliari, dai veicoli che il singolo conduce, fermato magari su strada, proprio in termini di polizia stradale. Tra l'altro queste convenzioni hanno previsto, ancora prevedono, credo per qualche anno, dei grossi benefici in termini, infatti tutte le risorse accertate al 100% per i primi anni vengono restituite agli enti locali. Dottoressa Rossellini, lei all'inizio quando si è presentata stava anche illustrando un progetto che lei fa al comune dove lavora, dalle prime battute ho avuto modo di capire che significa che significa che nei comuni, in questa frontiera che comprende la polizia locale a tutta una serie di servizi di cui stiamo parlando, poi si fa anche innovazione, si fa sperimentazione rispetto a progetti che si mettono in campo. Lei stessa è stata consulente ed è consulente del Ministero rispetto a certe dinamiche, non lo è sicuramente, è certamente brava, ha detto anche che è esperta di arti marziali che c'è stata l'esibizione qui, quindi c'è da prevedere che questi progetti siano anche efficienti e innovativi o no? Sì, innanzitutto dobbiamo puntare sull'innovazione, anche queste tecniche di Krav Maga, l'abbiamo introdotta anche noi nella nostra polizia perché, ahimè, si ritorna al discorso di prima, non abbiamo le tutele che hanno gli altri organi di polizia e quindi anche questi corsi di difesa su come operare, su come intervenire anche quando in un posto di blocco magari l'indirizzo è quello di controllare i veicoli piuttosto che altre cose troviamo, rinveniamo dei calagini, anche qui gli agenti devono sapere come comportarsi, come operare, quindi ci ingegnerizziamo un po', troviamo delle soluzioni a livello locale proprio perché ci mancano le tutele e una normativa di disciplina. Il progetto che dicevo inizialmente è proprio un progetto innovativo per quanto riguarda l'Italia e la Toscana ma anche altre regioni perché si parte da sopperire proprio a questa carenza di risorse umane ma anche risorse finanziarie, risorse strumentali partendo appunto dal cittadino coinvolgendoli in questi progetti di sicurezza, quindi facendo delle convenzioni, costituendo proprio delle associazioni dove il presidente dell'associazione che si occupa della sicurezza e della tutela è il cittadino, cioè scelto fra i cittadini e non fra le istituzioni. Un protocollo con la prefettura che coordina a livello provinciale le tematiche della sicurezza, con la polizia locale che come dicevo è quella più vicina al cittadino e quella a cui il cittadino sente di poter rivolgere e come diceva anche prima il collega, chi è stato nel supermercato e chi è intervenuto, chi è il più vicino, a chi il cittadino fa delle segnalazioni se vede dei movimenti impropri o strani, è la polizia locale. Quindi questo progetto che avvicina la polizia locale, alle forze carabinieri, alle forze dello Stato per coordinare e innovare quelle che sono le soluzioni per garantire la sicurezza. Stiamo sviluppando appunto un'applicazione telematica dove insegna al cittadino come evitare quei comportamenti impropri che rendono più vulnerabili le abitazioni e la sicurezza personale. L'applicazione informa anche poi di come intervenire se vedono un'auto che è successo recentemente, un'auto che girava piena di cassette, non si riusciva a capire cos'erano queste cassette e la segnalazione ha fatto sì che poi tramite la targa, anche fuori territorio, si era stata fermata questa macchina e effettivamente erano un po' cassetta nobile, si parlava in questo caso di contraffazione, di abbigliamento e mali che provenivano. Nonostante una legislazione qui puntuale sulle tutele dei prodotti sia di abbigliamento ma anche alimentari, in realtà invece poi c'è una grandissima contraffazione sia sugli alimenti ma anche sui testili che vengono utilizzati e anche materiali nocive e dannosi e qui la polizia locale anche qui diventa fondamentale nell'agire e nel combattere sulla contraffazione di questi prodotti. È stata chiarissima tutta una serie di situazioni, di progetti che possono essere attivati, di servizi che vengono espletati e quindi il nostro vice comandante ci spiegava prima ma quanto è difficile in queste fasi, ritornando al problema del terrorismo, quanto è facile anzi per un agente di polizia locale imbattersi di tutto, da quello che ha le armi a quello che è imbottito di tritolo. Diciamo che è un'altra cosa, io adesso le chiedo questo e poi già lì ci sono situazioni più efficienti rispetto alle dinamiche del sud, rispetto al fatto di imbattervi in una macchina con persone di origine musulmana che potrebbero essere a rischio. Voi vi siete trovati di fronte mai a una situazione del genere per esempio? Quali strumenti avete attivato? Quale avete per capire se vi trovate di fronte a uno che è fermato, che parla arabo, che ha delle dinamiche, che ha la moglie col velo? Ci sono delle situazioni che sono molto importanti e cioè l'acquisizione di quella formazione di natura culturale anche per poter gestire il problema, perché lei una donna occidentale la fermi e la puoi perquisire, con una donna musulmana il problema diventa più complicato e alcune volte ci sono agenti di polizia locale ma anche agenti di polizia che non sanno che si trovano di fronte anche a delle culture che vanno gestite in un determinato modo. Allora bisogna innanzitutto fare un chiarimento nel senso che è già capitato che si sia imbattuti in un controllo dove poi è stato trovato del tritolo all'interno della macchina ma non si trattava di persone arabe o musulmane ma di italiani che erano affiliati. Non ci dica che erano calabresi, perché poi è probabile. Non mi ricordo di che regione fossero, però comunque erano italiane ed erano affiliati comunque a qualche associazione di quelle arabe affiliate appunto al terrorismo. Per cui non sempre, è vero che da un punto di vista operativo si presta maggiore attenzione al veicolo sul quale magari sono presenti persone di religione musulmana o comunque arabi ma in realtà bisogna prestare la stessa attenzione anche nei confronti degli italiani perché ormai il terrorismo è stratificato in maniera trasversale in tutte quelle che sono le varie etnie. Ci sono molti italiani che hanno diritto, si sono convertiti nella regione islamica ci sono anche forme di radicalismo, penso a quel ragazzo di Genova che è andato a combattere in Siria. Esatto, esattamente. In secondo luogo diciamo che noi partiamo forse da un punto di vantaggio nel senso che chi si trova in una di quelle situazioni non teme la polizia locale perché il primo pensiero è quello che tanto mi ferma al massimo mi fa la multa perché non ho la cintura e quindi la preparazione che noi, che alcuni di noi hanno e che comunque tutti quelli che sono su strada dovrebbero avere serve invece proprio per scavalcare questo problema e quindi non solo intervenire da un punto di vista sanzionatorio del codice della strada ma anche da un punto di vista di polizia giudiziare perché il soggetto che guida o comunque i presenti sul veicolo non si aspetterebbero mai che la polizia locale faccia anche questi tipi di accertamenti. E poi in quel caso, nel caso che lei citava, ad esempio della perquisizione di una donna musulmana è equivalente alla perquisizione di una donna italiana per cui il collega maschio perquisirà gli eventuali maschi e le femmine devono essere necessariamente perquisite da collega femmina. A me è capitato in anni passati quando lavoravo presso la polizia municipale di Torino che i carabinieri, all'epoca non c'erano ancora le donne all'interno dell'arma dei carabinieri chiamassero la centrale operativa di Torino perché mandasse una pattuglia con all'interno personale femminile per poter effettuare perquisizione di perquisizioni, tendenzialmente erano donne o musulmane o serbe anche lì c'è una quota di musulmani che hanno il volto occidentale, caucasico esattamente, quindi la perquisizione da quel punto di vista non cambia indipendentemente dal fatto che si sia una donna italiana o una donna araba o musulmana sicuramente bisogna prestare da un punto di vista operativo molta attenzione ai controlli che si fanno e a quello che si trovano nel momento in cui si trova qualcosa che non è regolare come potrebbero essere armi piuttosto che esplosivi piuttosto che è necessario avere una certa delicatezza operativa per poter procedere in maniera serena, sicura da un punto di vista degli agenti che operano magari chiedendo l'ausilio di altre pattuglie se siamo in un comando dove ci sono più pattuglie sul territorio o chiedendo l'ausilio delle altre forze di polizia che sicuramente daranno il loro ausilio come hanno sempre fatto per poter portare a termine in maniera sicura perché poi il primo aspetto a cui bisogna pensare è la sicurezza degli operatori perché ovviamente ci si trova in una situazione operativa di alto rischio e quindi il primo pensiero è quello della sicurezza degli operatori sicuramente una formazione da un punto di vista teorico ma anche da un punto di vista pratico serve agli operatori della polizia locale per poter operare in maniera sicura bene, bene, insomma adesso siamo pronti per un altro stacco pubblicitario voglio ricordare insomma che questa discussione come vedete insomma siamo ritornati nuovamente alla questione della sicurezza e del terrorismo il nostro diciamo viaggio diremmo così segue un filo che può sembrare in alcun momento che si perde ma in realtà è un filo che insomma ha un unico denominatore quanto sia importante la conoscenza, la formazione come si attua per tutti i settori che poi insomma quello che è l'ente di prossimità dove c'è la polizia di prossimità ma ci sono anche altri servizi di prossimità che sono appunto quelli dei servizi dell'ente locale insomma quanto sia importante mettere insieme mettere, efficientare questo primo gradino dello Stato poi ritorneremo sulla capacità di comprensione di questo fenomeno in chiusura della trasmissione manderemo l'intervista che abbiamo fatto al dottore Gian Gregorio Sergio Gian Gregorio che è questo dirigente del Ministero degli Interi della Polizia di Stato che però in questo caso interverrà come direttore scientifico di questo organismo che studia il fenomeno terroristico osservandolo lì in queste aree e vi garantisco che ha lasciato una testimonianza che apre un mondo nella comprensione di questo fenomeno lo fa sulla base di un'analisi che ci sono grandi esperti fanno e che credetemi inverte completamente l'idea che abbiamo da dove nasce questo terrorismo e per certi aspetti oggi noi ci giochiamo in qualche modo una notizia di attenzione nazionale adesso mandiamo la pubblicità mi raccomando fra pochissimi minuti nuovamente qui sicura confortevole tecnologica efficiente lussuosa bellissima qualunque sia la tua idea di casa abbiamo la soluzione giusta per te Skyline un nuovo concetto di casa vieni a trovarci a Cosenza o visita il nostro sito qui ci sono E lei dove? Non è mai puntuale La psicologia è il mio mestiere Mi concentrerò come mi ha detto il capo Ho notato che a ti piace tanto fare tutto da sola, eh? No! Suo marito era completamente fuori di sé Fortier, tutti i giorni alle ore 12 Solo sulla C, canale 19 del Digitale Terrestre Bene, nuovamente in diretta dal Castello Svevo di Cosenza Dove è in corso Pool 2016 Il Meeting Nazionale della Polizia Locale Siamo nella seconda giornata La giornata conclusiva Oggi il 22esimo piano Ha voluto essere qui In mezzo agli agenti della Polizia Locale Seguiamo questo evento Ma non solo questo evento Da anni Insomma, seguiamo un po' Quelle che sono le tematiche della Polizia Locale Perché consideriamo la Polizia Locale La vera Polizia di prossimità Nel corso degli anni Il dibattito su questo è stato anche Diciamo alcune volte Diciamo molto simpatico Nel senso che Insomma, vi ricordate il poliziotto di quartiere Insomma, ce l'avevamo i poliziotto di quartiere Sono la Polizia Locale Intanto vorrei Insomma, prego la regia Perché si sta spegnendo il monitor Di vedere, diciamo Di controllare questa vicenda qui Nel frattempo ci hanno raggiunti Due nuovosti Ci sono alternati un po' di ospiti Intanto ci ha raggiunto il comandante Emilio Caruso Che è comandante della Polizia Municipale di Amantea Una delle nostre perle Questa del Tirreno Ne abbiamo anche sullo Ionio Insomma E però anche grande cittadina di frontiera Anche con tutte le tematiche Le problematiche di tante città Poi avremo modo di approfondire con Caruso Che si è alternato con un altro comandante Però di Torino Quindi adesso siamo ritornati a sud Poi mi ha raggiunto Se mi date il microfono Mi ha raggiunto una bellissima ragazza Che si chiama appunto Elena Vommaro Lei rappresenta un artista Ha un abito straordinario Un artista che ha fatto delle performance anche qui Perché insomma Pol 2016 non è solo Diciamo Momenti di formazione tecnica Ma anche momenti di crescita culturale Di promozione degli ambienti architettonici della nostra terra E anche di promozione di artisti E di insomma Di creativi Che insomma in qualche modo Hanno aiutato Allietato in un certo senso Queste due giornate Che affrontano problematiche molto serie Elena È agitata È agitata E invece non deve essere agitata Siamo qui Intanto Tu sei qui rappresentante È in rappresentanza di un artista Che è? Luigia Granata Cosa avete? Qual è stata diciamo la cosa Insomma avete fatto In questi due giorni qui? Allora Luigia Granata Innanzitutto è una grandissima artista Di Cosenza Un artista prestata alla moda Come avete potuto notare Poi ci spiegherai il tuo abito Perché io ho parlato con Luigia Mi ha detto poi ti spiegherai il mio abito Ma lei me lo ha spiegato al telefono Ma io non sono in grado di descriverlo Ci penserò io Ieri appunto ha fatto una performance Si chiama Painting Art Praticamente ha dipinto sui corpi di due ragazze Ha dipinto la strage di Nizza Proprio in onore della festa nazionale della polizia E quindi sul corpo di una ragazza Ha rappresentato la Francia E attraverso degli omini Realizzati dipinti sul volto di questa ragazza Con i colori della bandiera francese Sul corpo aveva una parte del corpo Che era tutta verde con dei fiori E rappresentava proprio la strada Dove è avvenuto l'attentato E ogni margherita era una vita tolta alla Francia E sull'altra parte del corpo C'era una bambolina Che era una bambola trovata a fianco ad una bambina E uccisa dall'attentato Mentre sul retro della ragazza C'era un camioncino che a mo' di giocattolo In realtà rappresentava il camion che ha fatto l'attentato Sul corpo della seconda ragazza Invece era rappresentata l'Italia E rappresentava un po' diciamo Tutte le nazioni europee Che hanno dato una mano alla Francia E quindi c'erano proprio queste mani Che aiutavano i volti sofferenti Delle vittime francesi E una tastiera di un pianoforte Che rappresentava proprio le note dell'amore Della sofferenza Era un messaggio di solidarietà Da parte dell'Italia alla Francia Bene fermiamoci qui Perché è bellissima questa cosa Perché anche gli artisti hanno voluto Testimoniare quello che è il tema Che stiamo dibattendo Lo hanno fatto in maniera creativa Ma molto toccante Poi insomma Vi torneremo perché Vorremmo capire qualcosa sul vestito Dicevo ci ha raggiunto Il comandante Caruso Che ha il microfono Lì vicino Comandante Noi insomma Abbiamo cercato di fare una sintesi I rischi Le mancate tutele Le abbiamo affrontate queste tematiche Ora vi chiedo Lo chiederò a tutti insomma Elena ci ha ricordato Spiegandoci L'arte che hanno voluto esprimere Luigia e le sue ragazze La vicenda di Nizza Ora la vicenda di Nizza È una cosa che insomma In Italia avrebbe visto In prima fila Gli agenti di polizia locale Immaginiamo una festa Di paese O una festa In uno dei corsi Delle nostre città E insomma Lì è tutto in mano Alla polizia locale E anche lì Insomma Quando avete visto quelle scene Le prime scene Che sono Erano veramente Ecco il comandante Lei che dirige un corpo In una città di mare Come Nizza Una città dove Insomma Come Amantea Cosa ha sentito Diciamo Quando ha visto quelle scene Drammatiche Così violente Cosa ha sentito dentro di sé Da comandante Della polizia sociale Polizia Diamantea Come uomo Non avremmo Se la domanda sarebbe banale Ma ecco Di fronte ad un'emergenza del genere Cosa sarebbe potuto succedere Se sarebbe potuto succedere Come è successo a Nizza Molti si sono chiesti Ma com'è possibile Che un tir Rirrompe in una zona Diciamo Chiusa al traffico Eppure è stato possibile Sì ho pensato esattamente Le stesse cose Che ha detto in premessa È successo a Nizza Ma probabilmente Avrebbe potuto succedere ovunque Anche a Amantea Anche in qualunque altra città Proprio perché È difficile per noi Che siamo avamposto di prossimità E siamo Come è stato detto Più volte nel corso di questi giorni Anche nelle relazioni Siamo coloro che nei grandi eventi Sono all'ingresso Di ogni zona rossa Diciamo Senza avere gli strumenti E i mezzi Per capire Chi abbiamo di fronte Tra l'altro Il fenomeno del terrorismo È ancora più preoccupante Per il fatto che Non è soltanto Una provenienza islamica Ma come abbiamo visto Nel caso di Nizza Sono comunque Erano cittadini Era come se un cittadino italiano Un cittadino di Amantea In questo caso Che entra in una zona Chiusa Potrebbe succedere Non avendo informazioni Sulla pericolosità Di questo soggetto Che riesca a convincerci Che debba fare Un breve tragitto Ed uscire immediatamente Dalla zona E provocare poi Quello che è successo Per cui c'è bisogno Di aumentare Di incrementare Questa rete di informazioni Dare la possibilità A noi di accedere A questa rete di informazioni Per poter garantire Al meglio Quelle che sono Le necessità C'è da dire E questo Lo posso Me lo faccio affermare Noi abbiamo avuto Il transito Del giro d'Italia Quest'anno Su Amantea Noi abbiamo 13 chilometri Di strada statale Quindi 13 chilometri Di costa Che sono stati Interamente Attraversati Dalla carovana rosa Bene Per tre ore Abbiamo Totalmente Chiuso Il traffico Rimandando indietro Anche i residenti Cioè Proprio Sull'onda emotiva E anche Sul discorso Che se ne Inizio è successo Dopo Però già Insomma C'erano stati I problemi di Parigi I problemi di Bruxelles Quindi c'è stato Un aumento Di attenzione Probabilmente Oggi Anche Il conoscente Che ti dice Che deve fare Un breve passaggio Non passa Se c'è L'ordine Di chiusura Tassativa E così è stato Con il Giro d'Italia Addirittura Sentivamo Tramite La centrale operativa Dei carabinieri Che Più A nord di noi Quindi con Minor tempo di transito Il traffico Era già E' stato riaperto Ad Amantea Siamo riusciti A tenerlo chiuso Quindi Comunque C'è questa Attenzione Particolarmente Elevata Ancora di più Rispetto a quello Che abitualmente E' stato fatto Fino adesso Dottoressa In chiusura Insomma Una battuta Sua Anche rispetto A queste tematiche Soprattutto Alla prospettiva Diciamo Che tutto questo Che PUL 2016 Intesa Come metafora No? Dell'obiettivo Di raggiungere I risultati Che poi In fondo Dai comandanti Ai propri agenti Di polizia locale Chiedono Si possa arrivare Il più presto possibile Sì La riflessione È questa Tutti questi eventi Ci portano A una conclusione È arrivato il momento Di rafforzare Le polizie locali Il ruolo è fondamentale E strategico Perché Tutti questi eventi Hanno portato A un senso Proprio di smarrimento Nel cittadino E di questa mancanza Di sicurezza Quindi il momento È fondamentale Per dare Una volta per tutte Gli strumenti necessari Alla polizia locale Che vengano Soprattutto richiesti Dai cittadini Perché sono i cittadini Che ci chiedono Di assolvere A queste funzioni Che sono fondamentali Il Ex comandante Briolo Oggi Segretario Comunale Dico la stessa domanda Che ho posto La prospettiva Cioè Cosa ci sarà nel futuro Anche Sulla base di quello Che lei svolge ora Che ora Ora insomma Svolge un ruolo In cui La problematica La vede a 360 gradi Guardi Il tema delle polizie locali Nel panorama italiano Va visto da Una serie di punti di vista Il primo Rapporto fra le polizie locali E le forze di polizia dello Stato In ciascuna realtà locale In cui le polizie municipali Lavorano bene Il rapporto con Gli organi di polizia dello Stato È normalmente eccellente E si crea sul territorio Un'ottima sinergia E si raggiungono Dei risultati operativi Straordinari Il secondo Quello più dolente Manca una legislazione nazionale E verso questa legislazione Più volte si è cercato di andare Senza risultati Anche il governo attuale C'è in discussione qualcosa Qualcosa che tratti Della sicurezza urbana E quindi indirettamente Dell'assetto Della polizia locale Il terzo tema È quello Della contrattazione nazionale Io ricordo Che la polizia locale È una È sostanzialmente Composta da donne e uomini Che sono dipendenti comunali Quindi soggetti Ai contratti collettivi nazionali Delle regioni E delle autonomie locali Che però In virtù di una legge nazionale Poi hanno delle attribuzioni Delle funzioni Di polizia giuriziaria Di polizia stradale Di pubblica sicurezza E quindi Oggi Che si devono riscrivere I contratti nazionali I contratti nazionali Appunto di livello generale È necessario Che in quella sede Vengono affrontate E trattate Le peculiarità Tipiche Del servizio di polizia locale Perché ricordiamo Che viene svolto nei comuni Il quarto e ultimo tema È la sfida che ci aspetta Rispetto al nuovo assetto territoriale Oggi La nascita delle città metropolitane Da un lato E dall'altro Gli obbligi di gestione associata Pongono anche le polizie locali Di fronte a un bivio E allora Se si vuole essere Veramente organizzati Devono scomparire Probabilmente Perché la tendenza è quella I microcorpi di polizia locale O i servizi di polizia locale In cui nei piccoli comuni Lavorino due o tre persone E si deve andare verso Una gestione organizzata Seria Sul territorio Da un lato Dove c'erano le città metropolitane La regia La cabina di regia Deve collocarsi Nelle città metropolitane E quindi Come dire L'idea Il sogno potrebbe essere Ma questo è il mio punto di vista E quindi Lì si dovrebbe provare A ragionare In termini di una Grande regime convenzionale Fra i comuni Del territorio De città metropolitane In cui si fa polizia locale In modo uniforme Sul tutto il territorio Dall'altro Ci sono le gestioni associate Che ormai sono obbligatorie La funzione di polizia locale È una di quelle Che ormai diverrà obbligatorie Salvo nuove proroghe All'inizio del 2017 E lì Si sentono da parte Un po' Le logiche del campanile Da un lato Dall'altro Quello delle legittime Aspettative del personale Affinché si creino Dei comandi Di polizia locale Comprensoriali Su aree Territoriali Omogene Intercomunale In cui si fa Polizia locale Seriamente Come si fa Nei comuni di media E grandi dimensioni In cui trovi Uomini e donne Di buona volontà Con delle competenze E professionalità Di un certo livello In cui riescono a derogare E ad offrire Cittadini Un servizio Di alto livello Io credo che siano queste Le quattro grandi sfide Che attendono La polizia locale Nel futuro Mi pare Chiara Io invece Una battuta finale Anche a lei Sul futuro E soprattutto Come migliorare L'esercizio Che fa a lei Insomma Di dare un miglior assetto Veramente una battuta In finale Poi facciamo In chiudere la nostra Elena E chiuderemo con L'intervista Che ci spiegherà Il dottor Giangroia Appunto Ci spiegherà Come funziona Il terrorismo Nelle zone La mia battuta finale È Riagganciandomi All'intervento Che ha fatto qui Il segretario comunale È Vista l'essenzialità Della gente Di polizia locale A questo punto Il suggerimento Sarebbe Migliorare I vincoli assunzionali In maniera tale Che Si possano Assumere Più persone In maniera Da supportare Gli uffici E quindi Toglierci Dall'impasse Del Non poter Assumere E quindi Non poter Migliorare I servizi Che loro stessi Danno Perfetto Insomma Qui invece Sono venuto Da promesso La bella Elena Ci spiega Questo Abito Insomma Che Anche Esso Ha Suo Significato Sì Esattamente Lui già Realizza Questi abiti Che Praticamente Ritraggono Parti Dei suoi dipinti E quindi Sono acquarelli Riportati Riportati Sulla seta E realizza Pantapalazzo Come questi Foulard Molto belli Ma la cosa Particolare È il lavoro Che Praticamente Dedica Alla città Di Cosenza Perché Questi pantaloni Insomma Ci sono Opere E monumenti Di Cosenza Di Cosenza Esattamente E questa cosa Sta spopolando Diciamo Sì Esattamente Sì È molto importante Viene Valorizza Il territorio Appunto Che è la Calabria E spero per lei Che nei prossimi progetti Ha anche in mente Di fare altro Con il centro storico Ha realizzato La nuova collezione Insomma Molte cose Davvero belle Di lei Sicuramente Molto Farà parlare Di lei Sicuramente Molto spesso Allestisce i corpi E anche Vediamo questo Ma promuove anche La città E Siamo in chiusura Con Elena Io ringrazio I miei ospiti Dalla Dottoressa La Casella Dottor Priolo La dottoressa Rossellini Il comandante Emilio Caruso Comandante Della Polizia De la Mantea Siamo in chiusura Adesso io mando A chiusura Di questa nostra Diretta L'intervista Che abbiamo realizzato Con il dottor Gian Gregorio Che ci spiegherà Veramente La dinamica Geopolitica Da Castello Svevo Di Cosenza E tutto 22esimo Piano Finisce qui Oggi una puntata Dedicata all'evento Pol 2016 Arrivederci Nella prossima puntata Dottore In questa giornata In queste due giornate Di Pol 2016 Che riguarda Insomma Tutte le problematiche Della Polizia Locale Tuttavia Abbiamo avuto Un tema Di fondo Da cui è partito Su cui si è concentrato Tutta la discussione Di questi due giorni Di questo meeting Del 2016 Ed è la sicurezza urbana Con un occhio A quello che è Il problema In questo momento Dei problemi E quello legato A eventuali Attacchi terroristici L'Europa C'ha Gli episodi di Parigi Tedeschi A Bruxelles Ci hanno insegnato E ci hanno consegnato Una situazione Che poi ha inquietato Tutto il paese Nella discussione È emersa però Un fatto molto importante Al di là Di tutto quelle che sono Diciamo Le tecniche Con cui si si attrezza La parte militare Con cui si si attrezza La sicurezza Molto si è concentrato La discussione Sulla conoscenza Soprattutto Di quello che avviene Di chi sono Da dove vengono Quali sono Le condizioni Che la determinano E soprattutto Una conoscenza Di quello che avviene Soprattutto Nei luoghi Che sono Diciamo In qualche modo Il luogo Dove Vengono generati Di certa situazione Lei si occupa Parlavamo In un foro La polizia Si occupa In questo foro Donda Proprio Di un Ufficio particolare Insomma Dove Si cerca Di approfondire Andando addirittura Sui territori E su quei luoghi Di approfondire E di comprendere Quali sono Diciamo Soprattutto Cosa genera Tutto questo Disaggio Internazionale Che sta producendo Oggettivamente Un cambio di passo Nella cultura Stessa Degli europei Certo Allora Dunque Intanto Facciamo una precisazione Su questo argomento Il ministero Non c'entra Io sono Il direttore scientifico Del Mediterraneo Colforum È un fintanche Che quindi Fa report quotidiani Ed interviene Sugli argomenti Che lei ha citato Ha Come segretario generale Amella Alza Lebelle Che è il più noto E famoso Analista Geopolitico Del Medio Oriente Quindi è un Giordano Che però È in collaborazione Continua Con Per esempio La Germania Proprio per curare Questi rapporti Veniamo proprio Sulla sua Richiesta Che succede Succede che abbiamo Una Siria Che probabilmente Avrà ancora Questo conflitto Fino al 2018 Perché tutti Attendono Il nuovo presidente Americano Vi faccio un po' Un quadro Una finestra Così Così Ecco Attendono La nuova presidenza Sarà sicuramente La Clinton I stessi finanziatori Di Clinton Dell'avversario Rilanciano La partita Quindi diciamo Stanno aspettando Quello Ma soprattutto Stanno cercando Di capire Come sarà divisa La futura Siria Sarà divisa In due In tre Quindi Russia Stati Uniti Turchia La Turchia Ha la preoccupazione Kurda E quindi Vuole che I kurdi Siano ridimensionati Gli Stati Uniti Hanno il loro interesse Strategico Sul sud-est Della Siria E la Russia Ha due basi fondamentali Sul Mediterraneo Tartus Che è quella navale E la Tachia Che è quella Della aeronautica Ecco Quindi il quadro È questo Se non capiamo Che ci sono dinamiche Di questo tipo E puntiamo tutto Sulla religione Abbiamo sbagliato La religione È una scusa Come ha detto bene Calangiori Ieri Il professore Viene utilizzata Nessuno pensa Che ogni islamico È un terrorista Neppure il califato Ha iniziato Questo percorso Così Immaginiamo Che il califato Nasce da una costola Di Al-Qaeda Quindi da una diaspora Che hanno all'interno Per il potere economico E quindi viene utilizzato Da uno Stato Rispetto all'altro Per andare avanti Questa condizione Dalle nostre analisi Che vengono fatte Col personale sul posto Come ha detto bene lei Perché parliamoci chiaro Se non si hanno i stivali Immersi nella sabbia Tutto quello che diciamo È troppo filtrato E la comunicazione Orizzontale Che abbiamo noi Ci porta poi Ad avere un'informazione Quasi mai puntuale Avere una persona Sul posto Che ci indica Davvero Quello che succede Ci fa capire tutto Ecco perché Vengono bombardati Siti civili In Siria Perché si vuole creare Ancora più panico E ancora più condizioni Che creano E allontanano Una pace possibile La nostra valutazione È che Per tutto il prossimo anno Ancora si combatte Fin quando non si decide Con i piedi sotto il tavolo Come dividere Questo paese Perché purtroppo Il futuro sarà questo Le battaglie sono Sull'energia E sulle posizioni Strategiche degli stati Quindi c'è tutto Il passaggio del gas russo Attraverso la Turchia C'è un importante accordo Che ha fatto Israele Guardi le dico Questa è un'anticipazione Anche se sui media internazionali Si può capire Addirittura Israele Ha fatto un accordo Diciamo di sistema Con la Turchia A cui farà ricostruire Gaza Con però Una contropartita Vuole che i turchi Controllino Hamas E quindi Come vede Si scioglie Un po' Il nodo Della situazione Si investono denari Ma si chiede anche sicurezza Senza farla direttamente Credo che lo scenario È molto complesso E ampio Ma con queste indicazioni Si capiscono Molte più cose Lei proprio Ci ha dato Delle chiave di lettura Diciamo che Negli editorialisti Di cose internazionali Qualche cosa si accende Poi c'è la solita Strumentalizzazione politica Per cui annebbia molto Annebbia molto Invece la comprensione Però Lei insomma In questo scacchiere Proprio osservando Dall'interno Proprio ci sono le pedine Posizionate Quindi il ruolo Della Turchia Il ruolo Di Israele Il ruolo Degli Stati Uniti Il ruolo E tutto si gioca Quindi sugli equilibri Geopolitici Perché quando Molte volte Ci si spiega Ma l'Arabia Saudita Finanzia l'Isis E tutto questo È una spiegazione Assolutamente sì L'Arabia Saudita Finanzia l'Isis Ma Non dimentichiamo Ecco Lei ha toccato Un tasso Fondamentale Apriamo una finestra Importantissima La nuova legge Approvata al Congresso Americano Che in acronimo È giasta Viene così detta Ecco La legge che prevede Che su un'azione Terroristica Dove sono morti Dei civili americani I familiari Possono richiedere I danni Al paese Di origine Dei terroristi Questo significherebbe Che sull'attentato Dell'11 settembre 2.000 persone Possono chiedere All'Arabia Saudita I danni E quindi Abbiamo calcolato Noi Di MGF Che potrebbero chiedere 50 50 miliardi Di euro Per esempio Con le 2.000 Vittime Cosa significa Questo E cosa significa Soprattutto Che Obama Ha messo il veto Al Congresso E il Congresso Ha bocciato Il veto Di Obama È la prima volta Che succede Che il Congresso Boccia il veto Di un presidente Americano E quindi È significativo Che c'è una svolta C'è una svolta Nel senso Gli Stati Uniti Hanno mandato L'allert All'Arabia Saudita Per un comportamento Differente L'Arabia Saudita Ha le mani sulla Siria Ma le mani anche sullo Yemen Non dimentichiamo Quello che è successo L'altra settimana Bombardamento A tappeto In una zona civile Solo Yemen Quindi Cosa significa Per sintetizzare Altrimenti Mettiamo troppe nozioni Sul piatto Significa Che si Destabilizza Per stabilizzare Ma in un nuovo modo Quindi queste Sono le regole Del gioco Seguiamo sempre L'economia Seguiamo sempre I fondi sovrani Degli Stati Quando la Libia È caduta Se qualcuno Fosse andato A vedere Com'era la quotazione Dei fondi sovrani Libici E vedeva Che erano a picco Avrebbe capito Che la Libia Cadeva Da lì a un mese E che quindi Non c'era possibilità Perché gli investitori Internazionali Vendevano i titoli Che prima avevano Nelle loro casse La vendita Significava Non avere più fiducia Su questo Premier che c'era Cioè il dittatore Che da Ecco Questi sono Gli strumenti Basici Sono questi Poi sul terreno Andiamo a valutare Tutto quello che succede Però glielo ho già detto Quando gli Stati Uniti Sganciano un po' Il doppio filo Che avevano Con la rabbia Saudita Significa che certo Tutti sanno Che è stato Ed è finanziatore Non solo Di quel conflitto E quindi hanno cercato Di rimediare Hai finanziato adesso Questa è una legge Che passa E' chiaro che Questa legge Ha anche un rovescio Della medaglia Perché anche noi Italiani Potremmo chiedere Agli Stati Uniti I danni per il Cermisti I danni per Calipari Ucciso a Baghdad Sulla Via Verde In una maniera Assolutamente incomprensibile Cioè c'è una spiegazione Ma Ce la teniamo per noi Diciamo Quindi potrebbe avere Questo risvolto Ma nello scacchiere internazionale È una mossa Talmente strategica Che fa un danno All'Arabia Saudita E che soprattutto Cerca Di ridimensionare La casa reale Perché noi parliamo Di monarchie Non parliamo Di Di democrazia L'unica democrazia Mi sento di dirlo E lo ribadisco Con forza In Medio Oriente È Israele Per quanto si possa attaccare In Israele si vota In Israele è un premio Esattamente Se poi vince sempre Un gabinetto di guerra L'hanno votato I cittadini israeliani Tutto il resto Non è democrazia In Giordiana c'è Abdullah Lì c'è la famiglia reale Cioè È così Quindi non dimentichiamo Questo fattore Perché molti pensano Che lì ci sia democrazia No Lì ci sono dittature Alla pari di quello che Non vado oltre Però insomma Alla pari di tante altre Solamente che sono affiancate E protette Da I grandi potentati economici È l'economia Che va seguita Per capire La scala geopolitica Dove arriva L'economia Adesso c'è L'intervento fondamentale È il gas Che deve essere Trasportato in Europa Mattei Grande genio Si era predisposto Tre canali Quello medio orientale Ma anche quello russo E quello centrale Lui prendeva da Egitto Da Algeria e Marocco E dalla Russia È stato un genio Ed è stato eliminato Perché era un genio Quindi la storia È molto più antica Di quanto noi pensiamo Assolutamente sì E si ripete purtroppo Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti